Venerdì 28 di aprile, una buona giornata gentili telespettatori di TRG, un benvenuto alla nostra rassegna stampa, il nostro TG Mattino di quest'oggi. Corriere dell'Umbria, la nazione, il messaggero, i quotidiani che prendiamo in esame, andiamo subito a vedere le prime pagine, iniziamo con il Corriere dell'Umbria, salgono a 37 i pozzi inquinati, il sottosegretario all'ambiente aggiorna il contatore, si aggrava la situazione delle falde in Val Nestore e parliamo di Piegaro dove sono saliti, dicevamo, 37 pozzi con inquinanti accertati, le falde che in Val Nestore hanno superato la concentrazione soglia di contaminazione. A centro pagina, ancora sangue, sulle strade muore un camionista, l'incidente tragico ieri tra Cagli e Cantiano, ne abbiamo parlato anche nei nostri TG, costa la vita un folignate di 50 anni, la Flaminia bloccata per ore. Si parla poi di certificati di malattia che sono a quota 200 mila in Umbria, Calendimaggio, la parola ai priori, e trovato senza vita l'uomo scomparso a Narni. Per la cultura, Faber in una nota e l'Umbria nell'altra, Cristiano De Andrè in concerto a Lyric. Si parla poi di sport, ma lo approfondiremo naturalmente nella seconda parte del nostro TG. Il Grifo in emergenza si bloccano anche i fazzi, Nicastro e Monaco. Tre novità per le fere col Carpi, Rieco, Violente e Ave, Rossi favorito su Contini. Volley, De Cecco e Atanasievis verso la Champions. Circo Lussi, ora la gara dell'anno. Domani inizia la Champions League, le finali a Roma, al Palalottomatica. Per la Nazione Umbria, la prima pagina, in città per festeggiare la laurea, bimba terrorizzata da un balordo, pessimo biglietto da visita, famiglia molestata insistentemente. In pieno centro, l'uomo prima chiede una sigaretta, Naccendino poi pretende di avere 20 euro, mette le mani nei giubbotti delle persone, impaurendo la piccola che fugge e cade. Veramente una situazione imbarassante. Lettera di Abassetti, che compie 75 anni, resti a guidare la diocesi. Il Papa blinda l'arcivescovo, quindi Perugia, ZTL, residenti compatti, siamo rimasti solo noi a difendere l'acropoli. La tragedia della strada, un incidente vicino a Pesaro, frontale con un furgone, poi il suo tire si ribalta, muore un camionista a Folignate. La storia, traffico di cocaina con in Sud America, un perugino finisce incastrato da Facebook. La prima pagina del messaggero, oggi ho fatto 100 euro di rapine in centro. La gang del portafoglio, i racconti degli assalti via social network. Aggrediti per 20 euro, bimba spaventata, la storia che abbiamo visto anche sugli altri quotidiani, maltempo incidenti, traffico caos a Perugia nella giornata di ieri. Poi l'inchiesta sanità, otto indagati. Dirigenti ASL avrebbero favorito le case di cura private, convenzioni senza gare, ipotizzati reati di falso e abuso d'ufficio. Ieri mattina gli interrogatori in procura. Nuova ZTL a Perugia chieste altre soluzioni, quindi cannabis terapia, il medico è un'arma in più. Si parla poi del tempo, come sempre sulla prima pagina del messaggero, il migliora nel tardo pomeriggio. Quindi dopo le piogge di ieri e anche tantissime di questa notte, da oggi pomeriggio migliora il tempo. Per domani, sabato 29 e domenica 30, prevalenza di sole con locali annuvolamenti, quindi nelle ore pomeridiane. Un fine settimana, un ponte che quindi si preannuncia abbastanza buono. L'acqua di ieri, ma per quello che riguarda l'agricoltura ce n'è veramente tanto bisogno di acqua in tutta la nostra nazione. Andiamo all'interno del Corriere dell'Umbria, iniziamo il giro dei quotidiani. Si parla della Val Nestori, il sottosegretario, dai numeri, 37 i pozzi inquinati. Interrogazione della deputata Umbra, Adriana Gagano, 46 le falde testate nell'area. L'impegno del Governo. Ci sono poi le stelle del lavoro che brillano il primo maggio. 17 Umbri riceveranno la prestigiosa onoreficenza. Complimenti quindi ai nuovi cavalieri del lavoro per questo importante riconoscimento. Si parla di economia, non può esistere l'Umbria senza industria, ma va cambiato il passo. Il segretario della Camera del Lavoro di Perugia, Ciavaglia, propone un mix tra manifatturiere e turismo in chiave 4.0. Si celebra il maggio per il weekend, tra spettacolo, folclore e storia e tante le iniziative in tutta la nostra regione che vengono riportate dal Corriere dell'Umbria. Per il tempo libero, per questo ponte, tantissime le iniziative. Da Sisi a Terni il nuovo mese prende avvio con i tributi all'arrivo della primavera. Un pezzo dell'Umbria nel cuore di Cristiano. Si parla di Cristiano De Andrè che sarà quindi di scena a Lyric. Il Papa deciso, il Cardinale Bassetti, resti alla guida della diocesi. Il pontefice rompe i protocolli e consegna la risposta alla lettera di dimissioni direttamente al presule Perugino lanciato verso la presidenza della CEI. ZTL mobilità, i no del coordinamento. Dall'Assemblea a Palazzo dei Priori prosegue la protesta contro la sperimentazione. Presenti una cinquantina di cittadini. L'infermiera chiede l'abbreviato accusata di lesioni aggravate a una neonata che le aveva sporcato la divisa con le feci. La difesa si è sentito il consulente. Traffico di cocaina dall'Argentina. Un perugino nei guai scatta il fermo per un cinquantenne e per il PM Petrazzini è promotore e organizzatore di un'associazione. Sussiste il pericolo di fuga. Fonti di Veggio risorge dal degrado. Il parcheggio sarà aperto 24 ore e costerà 50 centesimi l'ora. Previsto il collegamento pedonale con il mini-metro. Questo per il Corriere dell'Umbria. Andiamo all'interno della Nazione. Noi ultimo baluardo. Una nuova ZTL giunta da bocciare. Difendiamo la città, non i nostri posti auto. In cinquanta a discutere del centro raccolta firme o protesta sotto Palazzo dei Priori. Questa è la riunione che c'è stata in centro a Perugia. Un roseto giochi e spazi per i cani. Così rinasce il parco della pescaia. Il progetto 100 mila euro rientra nel bando delle periferie. Ecco come sarà. I gradoni saranno riqualificati. Verranno realizzati anche nuove aree per la sosta. Traffico di cocaina anche dalla nazione. Dall'Argentina un perugino incastrato da Facebook. Dopo quattro anni dall'inizio dell'inchiesta la procura lo fa arrestare. Intanto botte e stalking. La denuncia di una giovane badante vessata trascina la ex nel bosco per picchiarle. Il jeep aveva prescritto che l'uomo non si avvicinasse ma adesso non è più efficace. Il divieto è scaduto. Con la bimba in piazza a festeggiare terrorizzati dal barodo rapinatore centro violento vengono infastiditi. La piccola fugge in lacrime. La comitiva era arrivata in città per la laura di una conoscente. In piazza d'anti. E in viaggio verso la presidenza c'è il papa proroga l'arcivescovo Bassetti compie 75 anni ma resta alla guida della diocesi. Un segnale. Il pontefice gli ha scritto è stato lo stesso Bergoglio a informare Bassetti con una missiva personale. Intanto stelle al merito per 17 lavoratori. Tradizione e riconoscimenti assegnati dal prefetto di Perugia eterni. Tassa di soggiorno. 60 hotel nei guai. Subito segnalati alla corte dei conti. Non hanno versato l'imposta al comune. Mancano 150 mila euro. Siamo con il messaggero. Andiamo all'interno. Piano ZTL anche qui se ne parla. I contrari non molano. Parliamo di Perugia. Sfida il sindaco con una petizione. Una falsa rivoluzione. Il centro storico non può essere svenduto al commercio. Una raffica di no ai piani della giunta dal coordinamento che sarà permanente. Intanto fontivegge. Parcheggio ok. Romissi. Per noi una priorità. Arrivano intanto i defibrillatori nelle stazioni del mini metro e tre quartieri sotto assedio dai vandali imbrattatori. Un problema in più per Perugia. Premi università. Chi paga è fuori dall'inchiesta. Il prof. che restituiranno i bonus ricevuti senza averne diritto non dovranno difendersi dall'indagine della corte dei conti. Occhi piuntati sul lavoro della commissione d'Ateneo. Alcuni premiati avevano dichiarato assenze giustificate. Oggi ho fatto 100 euro di rapine. Gang del portafogli su Facebook. Le testimonianze degli assalti compiute ai danni dei ragazzini presi d'assalto. In vista del fine settimana i genitori raccomandano attenzione ai figli adolescenti. Rimanete nei luoghi del centro che sono frequentati. Intanto ragazzi e bambini aggrediti per 20 euro è stato preso il malvivente. In chiesta sanità. Ieri interrogatori. Intanto soldi e carte e portafoglio perso ridato al proprietario. Questa è una buona notizia che arriva da Umberti. De Stelle di merito. 17 premiati. La cerimonia. Perugia Assisi torna in tour del jazz. Per la seconda volta celebrata la ricorrenza è stata voluta dall'UNESCO e promossa da Umbria Jazz e conservatori. A Sisi una tempesta di diamanti. Un meraviglioso anello con al centro un rubino circondato di diamanti. Ancora quindi cannabis terapeutica. I medici un'arma in più. La regione fino ad ora. Risultati si dice soddisfacenti. Riprendiamo il giro dei nostri quotidiani che prendiamo in esame con il Corriere dell'Umbria e iniziamo dalle pagine con Assisi e Bastia Umbra. Parti alla conquista del calendimaggio. Sopra e sotto si presentano le edizioni 2017 nel segno dei giovani. Parlano i priori biondi e della vedova. Informazioni aggiornate sulla sicurezza nelle scuole. Approvata all'unanimità una mozione che prevede approfondimenti edificio per edificio e incontri pubblici. Le pagine di Città di Castello e Dumberti. Del grido di dolore degli adolescenti. Ricoverati 37 pazienti tra i 9 e i 16 anni. In 320 si sono rivolte in ambulatorio per i disturbi del comportamento alimentare. Abbiamo visto un servizio in merito anche nel TG provincia di ieri sera. Arrivano soldi per la pista d'atletica. Finanziamento di 45 mila euro dalla provincia. Il consigliere Paladino brinda. E intanto le iniziative della Casa di Francesco. La comunità educativa residenziale per minori sempre in prima fila con risultati più che lusinghieri. C'è poi un'idea per domenica tutti a Citerna. Nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni del sisma che colpì l'Alto Tevere. Il gruppo FAI di Città di Castello organizza una passeggiata all'interno del centro storico del bellissimo borgo di Citerna. Avremo questa sera nel nostro TG un'intervista con il sindaco Giuliana Falaschi. proprio per questa iniziativa di domenica. Un premio dal sapore antico boom di partecipanti di qualità ad Umbertide va a Luigi D'Alessio all'ambito riconoscimento del concorso nazionale 25 aprile. E poi ho sparato per difendermi dietro ci sarebbe un debito per la droga il fattaccio alla vigilia di Pasqua al Parco Ranieri di Umbertide. Siamo a Gubbio, ampliamento della discarica di Colognola. Arriva in via libera del Consiglio Comunale. L'atto di indirizzo da mandato alla Giunta per aprire un confronto con la Regione sul futuro del sito. Intanto la sede IMS verso il trasloco ha lavoro per evitare l'addio alla città. Controlli post-sisma, sbagliate 140 richieste dei cittadini, si vigili per evitare speculazioni. Gagliardi chiede spiegazioni, l'assessore Tasso. La non utilizzabilità non significa non agibilità degli edifici. E sopralluoghi post-sisma anche a Gualdo Taddino, 130 edifici non utilizzabili. Per la maggior parte si tratta di annessi in campagna. In totale sono stati effettuati dai tecnici 828 interventi. Intanto doppio convegno per Alessandro Bianchini a Gualdo Taddino. Il pittore Perugini è dedicato all'appuntamento di domani a Casa Castalda e Pieve di Compresseto. Siamo alle pagine di Foligno. Tragico scontro. Muore un camionista, un folignate di 50 anni, ha perso la vita in un tremendo incidente avvenuto sulla Flaminia. tra Cagli e Cantiano. Un grande aiuto con la meditazione. Arriva il Flash Mob Zen della Solidarietà. Domenica al Parco Hoffman. L'evento organizzato da Ligè Parrucchieri per sostenere una lodevole causa. Questo per il Corriere dell'Umbria che ritroveremo tra poco con le pagine dedicate allo sport. Intanto andiamo avanti con la Nazione. Turismo, il rilancio passa dai big. In arrivo due angeli custodi. Assisi chiede aiuto ad Antonio Paolucci. E Vittoria Garibaldi affiancheranno il dirigente comunale nella gara per i servizi museali. La città ricorda lo stilista Pino Lancetti. Parliamo di Bastia Umbra. All'artista della moda sarà dedicato uno spazio pubblico. Inaugurazione delle logge dei tiratori. La pagina di Gubbio mostra con capolavori del Novecento. Gubbio sarà il critico d'arte Vittorio Sgarbi a curare l'iniziativa. Intanto dati positivi per i flussi turistici. C'è la ripresina a Gubbio. Discarica, verifiche sull'ampliamento. Cologno la decisione presa con i voti della maggioranza. Pericoli sulla strada di Rio Vaccara. A Gualdo Tadino il fiume crea problemi di erosione. Le pagine di Città di Castello ed Umbertide. Dalla Nazione, mille studenti al concorso Zangarelli. Una competizione a suon di note. Ragazzi da tutta Italia per l'iniziativa che premia gli allievi migliori. E apprendimento con problemi. Uno sportello di sostegno intanto ad Umbertide. Bullismo, onoressia e dipendenze. Adolescenti, una generazione in crisi. Ci sono oltre 350 i ragazzi seguiti da ospedale e servizi territoriali. Siamo con le pagine di Foligno. Quella pista ciclabile da brividi a fine anno partiranno i lavori. Via Firenze dopo le proteste. L'assessore assicura interventi a breve. Intanto terribile schianto. Muore un camionista a Folignate. Cinquantenne Gianluca Marchetti lavorava per una ditta di Gualdo. La tragedia di cui abbiamo parlato anche ieri. nei nostri Tg. Ma andiamo all'interno del messaggero. Con le notizie dai comprensori che prendiamo in esame. Gualdo, concluse le verifiche post-sisma. 130 edifici inagibili. Il comune. Alcune situazioni risultano molto delicate. In qualche caso sarà necessario un ulteriore sopralluogo. Intanto a Gubbio, ancora caos in via Perugina. Un commerciante chiama l'avvocato. Battaglia per salvare intanto il Bancomat ad Agello. E a Città di Castello si fa lezione allo stadio. L'iniziativa dell'Istituto Patrizzi Baldelli Cavallotti. Andiamo con la pagina di Foligno. Festa di scienza diventi manifestazione dell'Umbria. L'assessore regionale della cultura Cecchini. Da qui verso il futuro. Sono i lettori Moriconi e Paciullo. Grandi opportunità per il mondo accademico. Quintano intanto ha approvato all'unanimità il bilancio 2016. E pochi giorni e si saprà la sorte dell'ex zuccherificio. Foligno, la città che cambia. Il sindaco ci sono un paio di elementi di confronto da definire. Poi si vedrà. Bene, prima di andare con le pagine sportive, vi ricordo il nostro sito internet www.trgmedia.it dove all'intorno trovate tutti gli aggiornamenti, tutte le notizie aggiornate 24 ore su 24 e anche i riflessi filmati, i servizi trasmessi nei nostri TG. E un'ina notizia che aggiorneremo tra poco. Tre scosse di terremoto che ci sono state questa notte nell'Appennino, Umbro Marchigiano, in zona Visso. Tre scosse, la più violenta è stata di 4.1. Naturalmente nessun danno, ma tanta paura tra la popolazione per la ripresa di questi eventi sismici. Noi ci fermiamo qualche spot pubblicitario, poi riprenderemo subito dopo con le pagine sportive. A tra poco.